Potrebbe essere aperto oggi stesso in procura un fascicolo d'indagine relativo ai disordini avvenuti in centro durante la manifestazione antifascista di sabato. Pochi minuti fa gli uomini della Digos e dei carabinieri che stanno compiendo gli accertamenti hanno consegnato in procura gli atti. Non c'è alcuna conferma ufficiale anche se pare sarebbe stato individuato uno dei soggetti che avrebbe preso parte alla guerriglia con le forze dell'ordine, in particolare al ferimento del carabiniere toscano che ha riportato la frattura della spalla con 30 giorni di prognosi. Il militare che fa parte del battaglione Bologna è stato dimesso dall'ospedale ieri mattina ed è tornato a casa sua dove è stato raggiunto da innumerevoli telefonate di solidarietà dalle più alte cariche dello Stato. Nel frattempo gli inquirenti si stanno concentrando sulla visione delle immagini delle telecamere installate in città e quelle dei reparti scientifici per capire chi abbia preso parte agli incidenti. A quanto pare la maggior parte dei giovani presenti nella prima linea del corteo non sarebbe di Piacenza. La procura potrebbe decidere di aprire un fascicolo per lesioni anche se non si escludono altre ipotesi di reato. Intanto è alto il coro di condanna che si leva dal mondo politico impegnato in questi giorni in campagna elettorale e anche da quello delle istituzioni piacentine come sindaco e prefetto. Grazie a tutti.